Poi è arrivato quel momento, è arrivato quel momento di aprire reddit.com slash r slash deluxe Già partiamo con... Allora, i mostri del DS, Delu Bowser Ok naso ma... Bella però, bella Questa è la più votata È il più votato, sì Ah, oddio, la scena di LOL, ma ci ho fatto caso ora No, io non la stavo capendo, sì È un riferimento a LOL, questo è Ciro Ma vaffanculo, ma non l'avevo capito mica io Sinti in missione Il fazzo... Qua dietro chi c'è? Questo è Gianco, per forza Allora, ci sono io Primo, ovviamente il primo che si immola per la patria, martire Poi c'è il fazzone che ride perché ci sono prima io e dice Ah, sì, si fa inculare Poi c'è Gabbo Inturbantato, ma clown Poi c'è Gianco nascosto E il marzone Oh Cristo santo, il voyagoon È più bello, eh? Lo shock parla di quello che succede nelle stream di Ufficioso Deluxe Come prima notizia in questa settimana Ufficioso Deluxe ha portato un nuovo gioco Getting Over It Finalmente dopo nove giorni di Rocket League Sette di Gartech Fone e venti mesi di Tetris Online Un nuovo gioco Bravo Ufficioso, vedi che se ti applichi sai fare lo streamer Passiamo alla seconda notizia Ufficioso ha deciso di fare una escape room con Alice Fogu Alice non ha trovato nessun problema nel risolvere gli enigmi Mentre Ufficioso senza Google neanche andava avanti Madonna Gunther Che, che Gunther sai cosa sei tu? Un nuovo personaggio dei Simpson Matt Gray ti ha proprio, ti ha, ti ha costruito Dopo varie lamentele la chat ha denunciato e fatto sfrattare i vicini A sua inserita siamo andati ad intervistare Ufficioso Deluxe per dargli la buona notizia A che se vedi qui c'è? Devastante Questo sta ridendo nel frattempo Sempre alla fine ci sono le perle del maestro Prego maestro a lei la linea Ragazzi Qualora voi foste in possesso di Twitch Prime Non ti sento c'è la pubblicità Cosa sponsorizzi Prime Ma che micro Ci vediamo settimana prossima con una nuova puntata di Voi e Gunter A volte perché ha inventiva Sì no ha detto che microfono del cazzo Mortacci tua Deluti dei pugni sulla scrivania Il suo upper watch E' vero Una volta ho tirato i pugni Sono andato in tachicardia E mi faceva pim pim E attento perché c'è il battito troppo alto Mi segnava tipo 190 battiti al minuto Meme Che facciamo boys Rocket League Wars on Tarkov Il giorno in cui io vi dirò Sì a Tarkov Voglio vedere Sette mila persone Sette mila persone Duemila sub regalati Ottocentomila Bits No perché poi metti Tarkov E dici Sì però lento Fa schifo Non ho niente da aggiungere Attenzione Zeb Il fazzone Lo zanone Dov'è il marzone In tutto questo Dov'è il marzone In tutto questo Scusami Comunque Cree Senza la sigaretta Non è Cree Cioè se io adesso porto su photoshop La sua faccia E gli tolgo la sigaretta Tu dici Questo che cazzo è Pazzesco Bellissimo Folgorante Porca puttana Vieni qui Porca la puttana Vieni qui Steps Ero otti Questo penso sia Questa se la vincese Non trollavo la kill sul fazzone Questa era la partita Più bella mai fatta Ma Vieni qui Ero bacco Ero bacco Non ti vedo il capo Se no per definita Scendo frusto come con il ciabatta Vipo ghiaccio sotto zero La stalla Lo ripeto che ci paghi un guanada Nuovo ordine DS La rambla Infine il show Con la nuova gongo C'è c'è aperti Che non ci resto sotto Più che bob Bilibob Torton Questo nob Uno scoppe Ed è morto Gang gang Kisho Gigi Glock Giam Monson Ost Big Frost On the neck Passa Zanonex Chiedi del DS Chiedi dei mostri Non saranno cazzi nostri Scusa Vaffanculo Ma è bellissima Ma è bellissima What the fuck Oh comunque Questa canzone ha fatto Questa canzone Beh Cioè Fa ridere Ma è bellissima No ma A parte A parte Nef Che vai Ovviamente Nef Cioè È superlativo Non c'è un cazzo da fare Nef Ce l'ho duro amore Non so per quale motivo Però Però Nef No Seriamente Cioè Nef è superlativo Ma cosa cazzo controlli Che tu Colazione da sin Oh madonna di dio Ma sai che Mi dicono Bobby Firmino Caffettino Bobby Firmino Ma Minore Minore gocciole Che è il filtro delle gocciole Maggiore Stories Bobby Firmino Caffettino Bobby Firmino Tastino Non posso dirlo Bella però Colazione dei sinti Molto Ma dove cazzo l'hai trovata Questa qui Romas Oddio C'era Johnny Creek Questo è Destiny 1 Questo è Destiny 1 C'era Johnny Creek Qua a fianco Comunque Dopo aver giocato A qualsiasi cosa L'ho comandata Sì circa Circa va così Cos'è successo Ad Albus qua Ehi che si è cappottato Completamente Adesso dove ando Eh sei di fuori È stronzo Eh Un po' come entri Qualcosa Albus Ma chi ve la propone Una regia dove Mentre sono in live Piglio una camera Volante La faccia La mail di Delo Delo quando leggerà In chat Se Star Citizen Tornerà Due mail e arrivo Ah è vero Scusate Avete ragione E me l'ho dimenticato Boys Di cambiare la cosa 025 Wevi fornisco Una regia incredibile Con la doppia cam Non cambia scena New challenge boys Riconosci i sinti Due punti a foto Madonna Lo zanno Mi ricordo che Facceva ste faccia Anche Jammo Le faceva Questo qua dietro Questo qua dietro Chi è Secondo voi Ah vabbè Ok si riconosce Ok No pensavo mi di Ah ok 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 Il capo Ok posto Posto Si riconosce Ma prima E infatti Questi invece erano Johnny Madonna santa ragazzi Ma c'avevo Uno o due problemi Qui eh Mamma mia Questo Omi Quando Quando faceva Gli scherzi Quelli su Black Ops 1 Canzione di Tarco Parte che spettacolo E dello stramica zombie Ecco a voi la prova Che dopo tutto Deluxe E anche intelligente Non sapevo In amore Fate abbracciare Fate abbracciare Poverino Amore Ali non mi devi toccare Ali Amore Fai un sorriso Messo anche nella categoria Video eh Ehm Lizzy Questo qui non è un video Perché è nella categoria video Ho dovuto lasciarlo per il meme Scusami Ok va bene Adesso banniamo Tasto destro Ban Lizzy bannata A posto Perfetto Volete sapere cosa sta facendo Albus In questo momento? Di qualcosa Di qualcosa Di qualcosa Niente E' un fottutissimo Mostra A quest'ora Dima sarebbe il re del mondo First meme Dello face Come sarebbe il regno di Dima Se Dello avesse risposto Dima Dima Guarda che Quel game lì E' durato 6 ore Zia Hai fatto recuperare Di due round Dima non deve parlare Non deve parlare Cazzo Dima Deve stare zitto Vogliamo sbrigare Nessuno Una sfida di TG E Dima Che spettacolo Questa piccola manovra Ci costarà 5 A punto Mamma mia Quanto cazzo Ci state navigando 3 2 1 Nooo Ma non ci posso credere Madonna Rivederlo Mi fa Mi urta Il sistema nervoso Game Yes 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 Dani Questa dovrebbe essere zombie No 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 Fuck Una roba che è molto creepy Boys ve lo faccio vedere E' il mio gatto Che rimane fermo immobile A guardare lo specchio Mi osserva Dallo specchio Ragazzi Non è creepy Di più Guardalo Guardalo Appena capito Appena capito che Appena capito E si sente osservato Se ne va Figlio di mignotta Apri la porta Dai fai vedere le tue doti Di animale intelligente Finita l'ereditata Finita l'ereditata Ah è finita Ok è finita Boys Io direi che è arrivato il momento di chiudere questa ereditata E come Non come tutti i sabati Ma come un paio di sabati a questa parte Dopo l'ereditata Io vi saluto Proprio nel chilling Grazie della compagnia Grazie per aver postato a tutti quanti Sta migliorando un botto Reddit Mi fa un botto piacere Grazie a tutti Grazie a tutti